sarà vero sarà falso un tiktoker ha fatto pesare per strada delle ragazze questa è una bilancia pesati col cazzo è scoppiata una polemica shock non è possibile che una persona dotata di potente intellettivo possa fare questo video qua si è parlato di disturbi alimentari e molto altro tu non puoi permetterti di andare in giro con una bilancia sotto braccio in giro in città e fermare le ragazze metterle in suggestion share cosa per farci un video per farci due like che schifo ciao scappati di casa io sono fabrizio e valerio è il mio cognome benvenuti in questo nuovo nuovissimo appuntamento di tg talk il telegiornale più shock del web dedicato al fantastico magico mondo di tiktok un tiktoker ha fatto pesare per strada delle ragazze sarà vero sarà falso o sarà che non ce ne frega un c***o prima di iniziare però come sempre vi ricordo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina cliccate anche quella per non perdervi tutto quanto gossip drama e il meglio anche il peggio di tg talk vi ricordo poi anche di seguirmi su instagram dove mi trovate come fabrizio valerio ed ovviamente anche su tiktok visto che di questo che parliamo dove sono sempre fabrizio valerio ed eccoci qua ragazzi nuovo tg talk nuove notizie super super shock che vi devo raccontare a grandissima richiesta infatti torniamo a parlare delle polemiche dei drammi dedicati al fantastico magico mondo di tiktok italia prima di raccontarvi tutto quanto volevo ringraziarvi per il grandissimo successo degli ultimi tg talk in cui parlavamo di cara vi ricordate cara anthony la presunta figlia bla 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 insomma sono anche qui per dirvi che più o meno nella casa nuova visto che state vedendo insomma uno sfondo neanche bellissimo perché è quello provvisorio io in realtà andrò a registrare i video in un'altra parte della stanza perché questa stanza è veramente molto grande è tutto bianco infatti mi vedete abbastanza luminoso perché ho finalmente messo anche tutte le luci comunque chiusa questa parentesi oggi torniamo a parlare di un grandissimo drama che è scoppiato in questi ultimi giorni e beh diciamo che è diventato virale questo video lo starete vedendo queste immagini che adesso non vi hanno nulla ma più avanti nel video vi spiegherò per filo e per segno tutto quanto queste immagini di ragazze che vengono fermate per strada c'è una bilancia c'è questo tiktoker che insomma parla con loro e queste immagini hanno destato tantissimo scalpore ma andiamo con ordine partiamo innanzitutto dicendo chi è il protagonista di questo benedetto video che è diventato virale lo starete vedendo è proprio lui florin un volto abbastanza noto su tiktok italia per via di svariate svariate cose allora principalmente noi pubblico di tg talk mi aggiungo anche io a voi mentre faccio i video insomma poi parlo con voi di tutto quanto lo avevamo già visto nei miei video per via di una cosa spiacevolissima era circa un anno fa forse un anno e mezzo fa nel momento in cui in una discoteca florin veniva letteralmente picchiato forse anche da 50 persone perché era un tiktoker perché lo avevano riconosciuto lui che faceva contenuti sui social è stato picchiato per questo motivo e avevamo visto queste immagini di lui che era tumefatto comunque nel volto e insomma era stato letteralmente vittima di un'aggressione potentissima il tempo è passato i suoi contenuti sono anche in un certo senso cambiati credo che fosse più o meno un anno e mezzo fa quando florin decide sui social di pubblicare dei video che fanno discutere come ad esempio lui che urla in mezzo alla gente di un ristorante tutti si girano e dicono boh ma che sta succede la stessa cosa è successa anche qualche tempo fa nel momento in cui florin decide di andare in giro per milano con un accappatoio e chiama toni 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 dove è toni e le persone in mezzo alla strada diciamo che lo prendono come un pazzo fuori di testa ma a parte questo che cosa succede i suoi contenuti iniziano veramente a far discutere nel momento in cui qualche giorno fa parla di un grandissimo argomento abbastanza controverso sto parlando delle preferenze a livello fisico che hanno i ragazzi e le ragazze allora vi sarà capitato nella vostra vita o comunque sui social ovunque di vedere di ascoltare una ragazza una donna che diceva insomma il mio uomo deve essere più alto di me l'altezza importante bla 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 caso super diverso vi faccio un esempio perché poi parleremo anche di di loro in un altro video chiara ferragni e fedez lei altissima lui più basso di lei eppure sono stati una coppia fino a qualche tempo fa hanno fatto anche dei figli una splendida famiglia quindi in realtà voi capite bene che l'altezza in un uomo in una donna non conta sono altre le cose più importanti e poi diciamo la verità soprattutto in un uomo sapete no la regola della l sei alto ma c'hai il gamberetto sei basso ma c'hai la lo squalo non so ragazzi comunque a parte questo trash andiamo con ordine perché si parla appunto di altezza negli uomini quindi che cosa succede succede che florin si presenta lì in mezzo a piazza duomo adesso non ricordo quale fosse in realtà la parte di milano comunque in centro a milano con una bilancia sotto il braccio nel momento in cui una ragazza parla dell'altezza di un uomo diciamo che lui fa una richiesta abbastanza particolare guardiamo insieme tutto quello che è successo e poi lo commentiamo guarda importante l'altezza in un uomo sì 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 questa è una bilancia no no per te è importante l'altezza in un uomo sì tantissimo sì questa è una bilancia pesati questa è una bilancia pesati col cazzo ciao insomma lo abbiamo capito un video volutamente provocatorio che ha in qualsiasi modo innescato voi non potete capire ma una quantità di migliaia di commenti critiche offese insulti spunti di riflessione da tutte le parti ma andiamo con ordine perché come abbiamo visto in questo video si parla da una parte dell'altezza in un uomo che è fondamentale secondo la maggior parte delle ragazze che sono state intervistate dall'altra invece c'è forse l'uomo che vuole sapere il peso della sua ragazza non lo so ragazzi mi sembra tutto molto strano io non ho mai chiesto a una persona quanto pesi per uscirci vabbè fatto sta che si è ampiamente discusso sull'altezza il peso di qui di là di su di giù voglio andarvi a leggere però quelli che sono stati i commenti a caldo sotto il video di florin perché chiaramente moltissime persone lo hanno insultato e lo hanno criticato vi leggo alcuni commenti per farvi capire un po il sentiment generale ma per me dovresti solo vergognarti mi dispiace per le ragazze siete tutte bellissime ammesso solo a disagio le ragazze hanno solo espresso una propria preferenza superficialmente sei caduto in basso dopo questo paragone il video ci può anche stare se non fosse però che i commenti sul peso possono sfociare in dca che sarebbero i disturbi alimentari di ogni tipo mentre sull'altezza no perché non è una cosa su cui puoi agire spero che tu non abbia incontrato nessuna ragazza che soffrisse di dca perché mettergli davanti una bilancia è forse una delle cose più sbagliate da fare ma cosa ca ho appena visto prova a chiedere a degli uomini se il peso è importante in una donna portati dietro un righello e chiedigli di misurarsi il ca puntini puntini a quel punto l'esperimento è eco in realtà per essere eco in quel senso dovresti chiedere la taglia del seno e i centimetri che lui ha lì sotto quindi insomma ragazzi c'è un purpurri di cose da dire da capire in tutta questa vicenda sicuramente il 90 per cento dei commenti delle persone che si sono scagliate contro florin dicono la stessa cosa ma come ti sei permesso a chiedere di pesarsi pubblicamente a delle ragazze che ha intervistato per un tuo video andando avanti chiaramente questa è una parte delle persone che hanno commentato il video di florin dall'altra c'è chi invece gli dice beh ma forse un po hai ragione prima però di arrivare a queste persone che gli dicono forse hai ragione devo condividere con voi una tra le ragazze più coraggiose più non so come dire intraprendenti che in questi ultimi giorni hanno deciso di parlare di questo argomento lei si chiama andrea schneider spero di averlo detto giusto è una ragazza che su tiktok ha fatto uno stitch quindi una video reazione al video di florin perché chiaramente di fronte ad un tiktoker molto conosciuto che si mette in mezzo alla strada con una bilancia sotto il braccio e chiede a delle ragazze di pesarsi pubblicamente davanti a tutti lei ha deciso di non rimanere in silenzio questa cosa non è normale questa cosa è gravissima se viene fatta nei confronti di una ragazza che ha un disturbo alimentare o comunque ha una problematica con il cibo quindi ascoltiamo insieme le sue parole poi le commentiamo guardate visto questo video sui social ho pensato non è possibile che una persona dotata di quoziente intellettivo possa fare questo video qua allora punto numero uno e tu non puoi permetterti di andare in giro con una bilancia sotto braccio in giro in città e fermare le ragazze metterle in soggezione solo perché hanno espresso una loro preferenza su come vorrebbero il loro ragazzo così come voi ed è giusto secondo me avete delle preferenze su sulla tipologia di fisico che la vostra ragazza dovrà avere è giusto che anche noi esprimiamo giustamente i nostri pareri e fin qua nessun problema dal momento che però tu vai in giro con sta bilancia sotto braccio metto in soggezione delle ragazze che tu non sai se loro hanno se soffrono di disturbi alimentari se hanno tutte le paranoie di sto mondo e cosa fai le metti la per cosa per farci un video per farci due like che schifo punto numero due non è il numero sulla bilancia che definisce se quella persona è magra o meno sapete cosa lo definisce la via la bioimpedenziometria che praticamente il calcolo di della della massa grassa massa magra liquidi e tanti altri fattori che definisce se quella persona è in normo peso questo questa via la esegue la eseguono i professionisti la mia nutrizionista lo fa ogni volta che vado a fare la visita ed è quello che indica se quella persona è in normo peso o meno non uno stupido numero sulla bilancia spero di aver risolto tutti i vostri problemi farvi capire quanto veramente ha indignato tutto il popolo del web quel video di florin pensate c'è stato anche un post degli amici di web punto it che hanno ripreso anche le parole di questa ragazza andrea dove hanno riassunto il tutto tiktoker insomma fa pesare le ragazze per strada scoppia la polemica ecco questo è quello che hanno detto gli amici di web ed effettivamente tutti ne hanno parlato anche pagine che solitamente non si occupano del gossip spicciolo sui social eppure il video di florin ha veramente fatto discutere ma in tutto questo lui come avrà reagito ha detto qualcosa ha pubblicato delle scuse ha pubblicato un messaggio per dire che cosa ne pensa dopo lo scoppio di questa polemica beh diciamo che a distanza di qualche ora dalla pubblicazione del video lui lascia un commento visti tantissimi messaggi negativi che ha ricevuto dice non voglio attaccare nessuno ho fatto semplicemente due domande pacifiche no comment e quindi insomma con queste pochissime parole florin diciamo si è tirato fuori da questa polemica senza precedenti ora insieme a voi vorrei fare un discorso generico nel senso che siamo di fronte ad un video che è stato fatto volutamente per provocare perché chiaramente io se vado in giro a chiedere le preferenze delle persone non è che poi mi presento con la bilancia sotto il braccio e faccio pesare le persone davanti a me anche perché non è che ci sia moltissima correlazione tra l'altezza e il peso di una persona mi spiego meglio ma chiaramente ragazzi c'è sapete no per per capire se tu hai della massa grassa oppure no assolutamente cioè altezza e peso vanno di pari passo e per com'è che si chiama bmi forse penso che si chiami bmi quindi body qualcosa insomma per capire se sei normo peso sovrappeso sotto peso è fondamentale sapere quanto sei alto e quanto pesi ma insomma diciamo che paragonare l'altezza di una persona al peso di un'altra no cioè non so non mi trovo d'accordo ecco c'è chi ha detto in questi giorni beh ma comunque il peso se ti alleni se fai la dieta lo riesci a perdere per l'altezza invece non si può fare assolutamente nulla condivido assolutamente questo discorso perché l'altezza quella è e quella ti devi tenere ci sono dei rischiosissimi costosissimi interventi che ti possono far aumentare l'altezza di qualche centimetro ma ragazzi non penso neanche siano legali qua in italia non voglio neanche sapere che cosa succeda so che ti tirano letteralmente ma a parte questo se dobbiamo parlare in modo sincero io devo ammettere questa cosa mi è sempre capitato di ascoltare dei discorsi di ragazze di donne anche di uomini eh che parlano dell'altezza come una cosa fondamentale ricordo che una mia amica moltissimi 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 ma non è neanche più mia amica questa persona comunque moltissimo tempo fa decideva se uscire o meno con un ragazzo se era più alto di lei se era alto come lei o più basso di lei no basta x non ci esco punto e basta che se ci pensate è una cosa terribile perché precludersi di conoscere una persona perché più basta di te o perché è alta come te e non va bene perché l'uomo deve essere più grande perché altrimenti bla 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 è terribile e vi dirò di più ci sono delle ragazze che quando dicono no ma io con un uomo più basso di me non ci uscirei è perché proprio nel loro immaginario nella loro testa ci deve essere la coppia ok quindi lei donna e l'uomo deve essere sempre più alto di lei come anche sempre più grande di età o la stessa età o comunque più grande perché più piccolo non va bene e qualcuno adesso dirà e vabbè ma è una questione di maturità bla 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 ok perfetto la maturità è un conto ma l'altezza cioè quello che io veramente non capisco è perché una donna dovrebbe volere per forza al suo fianco un uomo alto perché si debba sentire protetta ma noi ci dobbiamo proteggere come vogliamo sia uomini che donne cioè non abbiamo bisogno della protezione di nessuno sappiamo badare a noi stessi o a noi stesse e io questo discorso ve lo faccio perché credo fermamente nell'uguaglianza di genere cioè che gli uomini e le donne debbano avere gli stessi diritti debbano avere le stesse possibilità nella vita e tante altre cose quindi quando io leggo determinati commenti del tipo non uscirei mai con un ragazzo che è più basso di me perché l'uomo deve essere più alto ma chi lo ha detto cioè oltretutto la natura ok ci fa alti bassi e genetica chiaramente e sull'altezza non ci puoi fare nulla cosa invece diversa è sull'aspetto fisico nel senso di il peso il peso si può perdere si può prendere quindi non so come dirvi però è sicuramente una condizione fisica che può cambiare l'altezza non può cambiare cioè con lo sviluppo a una certa ti fermi tornando invece al discorso del peso ho trovato molto fuori luogo il fatto che florin abbia deciso di presentarsi con la bilancia di dire a delle ragazze pesatevi ma se lo avesse fatto anche con degli uomini la mia reazione sarebbe stata la stessa e cioè ma perché ma tutto bene che senso ha chiedere a una persona di pesarsi non ha assolutamente senso quindi condivido questo malessere generale questo malumore generale che si è creato sui social di fronte alla scelta di florin di far pesare delle persone lì in mezzo a tutti davanti a una telecamera eccetera eccetera perché secondo me non ha assolutamente senso e condivido anche il discorso di chi ha detto ma se tra quelle ragazze c'era una persona che ha dei disturbi alimentari ma tutto bene come ti puoi sentire ora chiaramente ragazzi qualora ci fosse tra queste ragazze una persona che ha dei disturbi alimentari florin ovviamente non può saperlo perché fermando degli sconosciuti per strada tu non sai nulla della loro vita cioè banalmente non sai che non lo so se hanno perso una persona loro cara se sono single se sono fidanzati se sono omosessuali se non lo sono insomma tante cose ok l'altra faccia della medaglia di fermare persone in mezzo alla strada è chiaramente trovarsi anche di fronte a delle persone che hanno delle problematiche quindi ci può stare anche quello cioè non è colpa adesso di florin se delle persone hanno dei problemi a livello comportamentale per quanto riguarda il cibo no quindi in realtà chi gli ha detto la colpa è tua non condivido sicuramente è poco carino chiedere ad una persona in generale pesati davanti a me o altre cose perché lì poi dipende molto dalla sensibilità che ha una persona magari tu mi fermi in un momento in cui io non non mi ritrovo a mio agio con il mio corpo con il mio aspetto fisico con il mio peso e pesarmi significherebbe assolutamente essere molto a disagio ok come invece puoi fermare una persona che ti dice ma sì ma qual è il problema io mi peso davanti a tutti non è non è un problema ecco diciamo che c'è una sottile ok linea tra chi non gliene frega assolutamente nulla e che invece vede una bilancia e dice aiuto ok ma questo indipendentemente da dei disturbi alimentari perché quella è proprio la punta dell'iceberg no quindi la cosa più più eclatante più terribile no diciamo che sotto l'iceberg ci sono tante tante altre cose persone che non si piacciono esteticamente persone che non riescono a perdere dei chili ma che vorrebbero perdere dei chili eccetera eccetera quindi sì il discorso sui dca fino a una certa nel senso che comunque non so se io ti fermo per strada non posso conoscere la tua storia i tuoi problemi chiaramente chiedere ad una persona che ha dei problemi a livello di disturbi alimentari di pesarsi è una cosa assolutamente x non si fa nella maniera più assoluta fermo restando che comunque in tutta questa vicenda quello che più mi ha colpito è stato proprio il diciamo la reazione da parte delle persone sui social che si sono sentite letteralmente attaccate mi ha fatto piacere in realtà vedere come anche delle donne anche delle ragazze abbiano detto ma scusate ma che senso ha tutto quello che state dicendo perché e qua lo voglio dire anche io ad un certo punto quando si parla di disturbi alimentari si dice sempre è ma le ragazze poverine si vedono male allo specchio hanno delle insicurezze bla 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 ma non è che i disturbi alimentari colpiscono solo e soltanto delle donne che sono fragili insicure e che si vedono grazie allo specchio i disturbi alimentari in generale colpiscono chiunque o meglio possono colpire chiunque sicuramente una grandissima fetta di persone che è affetta da questo genere di disturbi è di sesso femminile ma non escludiamo anche la parte maschile che ha dei problemi di anoressia di bulimia eccetera eccetera questa cosa anche di generalizzare per forza è ma le ragazze poverine di qui di là ma chi lo ha de cioè non è vero non sono solo donne ragazze giovani soprattutto che hanno questo tipo di problema sicuramente una maggioranza incredibile è donna è giovane è adolescente io sono d'accordo assolutamente su questo ma perché bisogna sempre avere questo pregiudizio tra virgolette no anoressia uguale ragazzina magrissima adolescente non è vero cioè ci sono persone di tutta l'età di tutti i generi appunto quindi boh non lo so cioè diciamo che nei commenti sì c'è stato del moralismo non troppo però devo dire quindi questa cosa è anche positiva perché diciamo avere i paraocchi e dire ah no vabbè ma che brutto no terribile chiedere di pesarsi ad una ragazza bla 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 ma c'è in realtà chiedere di pesarsi in generale non è bello ma come non è bello cioè io questa cosa qua la dico sempre perché mi capita vi racconto giusto un aneddoto di qualche tempo fa ero ad un funerale c'erano dei parenti che non vedevo da tantissimo tempo un parente mi ha detto cioè neanche ciao eh ah ma sei ingrassato sì perché probabilmente non so quanti anni fa mi abbia visto ma avevo sicuramente dei chili in meno ora cioè voi capite no che senso ha che senso ha io ti vedo oltretutto in un contesto di un funerale tutto ciao tutto bene sì che che strano vedersi in queste situazioni sapete no queste frasi da circostanza basta e basta cioè non io non andrei mai a dire a qualcuno mamma mia come sei grosso così perché mi è capitato anche questo eh vado in un bar dove non andavo da mille anni non ci vado più infatti chi ci lavora lì dentro non mi vedeva da una vita ah ma ma tu puoi fare una persona cioè a parte che io sono un cliente uno due ma tu puoi fare una persona ah ma sei ma sei cosa tu sei un pallone di merda schifo ma che guarda ma comunque tutto questo per dirvi che cosa che chiaramente i commenti sul fisico delle frasi non richieste sul fisico la scelta di far pesare una persona davanti a tutti non sono cose belle ma in generale quindi quindi sì cioè io penso che florin abbia sbagliato penso che sicuramente il suo video fosse super 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 provocatorio lui lo abbia fatto di proposito e c'è anche riuscito perché il video credo che abbia fatto un milione e mezzo di views e tantissime condivisioni tantissimi like però mi sarebbe piaciuto vedere adesso sui social una sua spiegazione una sua non so come dirvi presa di posizione anche più netta no cioè comunque tu fai un video c'è una reazione incredibile da parte del pubblico che comunque ti critica magari tu di qualcosa scrivi anche un messaggio non lo so bastava poco ecco sì per fare chiarezza più che altro comunque insomma questo è tutto quello che è successo ci sono state tantissime persone che ne hanno parlato ma io adesso aspetto i vostri di commenti qui sotto fatemi sapere che cosa ne pensate di florin di questa incredibile polemica che che ha suscitato il suo video e niente il video finisce qui spero che vi sia piaciuto e se così lasciate un bel pollice in su iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi io e mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video vero mark vai saluta mark vabbè ragazzi anche oggi noi ci abbiamo provato ciao 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 ciao